...doppiare perché io guardo l'originale in americano e veramente il dialetto americano è molto lontano dell'italiano, in americano lui dice oh darling it's beautiful ed è cortissimo la bocca del disegno oh darling it's beautiful, noi in italiano diremo ma tesoro è bellissimo, è molto più lungo che più c'è dunque c'è un problema lì di riescrivere tutto il dialogo per adattarlo agli italiani è un problema un po' difficile, poi è molto frustrante quando fai il suo doppiaggio perché sei tutto da solo io lavoro molto in teatro e sono abituato a un dialogo, cioè il mio partner mi dice una parola, lo guarda in faccia, le risponde lì sei tutto da solo e vedi unicamente, tu dici unicamente la tua battuta, non vedi neanche il resto del film io il film l'ho scoperto con voi per la prima volta, io non ho mai visto il film mentre lavoravo sul film dunque è una cosa molto difficile, però molto stimolante, mi piace d'amore perché fare la doppiatrice è un mestiere stupendo, non c'è bisogno di truccarsi com'è rivestita quando doppiata? sei rivestita? in jeans 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 Grazie.